Il pari con il Cittadella prima il saldo degli stipendi, poi con conseguente rischio penalizzazione fugato per il Foggia che si accinge alla pausa di campionato. La volontà di sfruttare al meglio il turno casalingo di recupero con l'Ascoli per il Lecce che rincorre il sogno Serie A. Con riferimento alle recenti notizie diffuse su alcuni organi di stampa in merito a presunte possibili penalizzazioni ai danni del Foggia Calcio per non aver debitamente provveduto al pagamento delle aspettanze dei calciatori, la società rileva come tali informazioni siano false e destituite di ogni fondamento. A riguardo la società Foggia Calcio precisa di aver correttamente e debitamente pagato con proprie risorse, quanto dovuto. Con questo stringato comunicato il Foggia ha messo il punto alla vicenda relativa al pagamento degli stipendi. Nonostante la volontà della società rossonera di gettare acqua sul fuoco, il rischio di incorrere in una nuova penalizzazione c'è stato ed è stato fugato anche grazie all'intervento del sindaco Landella e degli sponsor disposti ad anticipare i versamenti delle proprie quote pubblicitarie. Chiarite le vicende extracalcistiche, il Foggia si approccia più serenamente alla pausa. L'1-1 con il Cittadella di sabato scorso ha messo in mostra una squadra vogliosa di gettare il cuore oltre l'ostacolo ed un Grassadonia desideroso di sfruttare al meglio la seconda possibilità sulla panchina rossonera. Alla ripresa il 30 marzo sul campo della capolista Brescia si presenterà un Foggia, quello del Grassadonia 2.0 impostato sulla difesa 3 e sul Kragl nel suo ruolo di esterno sinistro di centrocampo. Obiettivo sarà naturalmente quello di tirarsi definitivamente fuori dalle acque agitate della zona retrocessione. Diametralmente opposto sarà invece l'obiettivo del Lecce pronto a ricevere sabato al Via del Mare Lascoli nel recupero della gara bloccata dopo appena un minuto lo scorso 1 febbraio a causa dell'incidente occorso a Manuel Scavone. Archiviato non senza un pizzico di rammarico il 2-2 di Crotone arrivato nel finale dopo aver culato a lungo la possibilità di tornare a casa con l'intera posta in palio, i Salentini sono pronti ad affrontare un match che in caso di successo li proietterebbe in terza posizione a meno uno dalla zona A, un'occasione assolutamente da non perdere.